Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente. Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva, saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore. Inoltre, Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli, vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio WhatsApp, ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore. Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia 223, a Collegno, provincia di Torino e su www.da.puntopesca.com Buonasera signori e bentornati alla Peripesca Live che ogni lunedì sera vi tiene compagnia qua sui lì di Punto Pesca e di Tireali di Pesca, due canali di YouTube coinvolti in questa avventura ormai possiamo dirlo da più di un anno insieme. Detto questo, insieme al buon Beppe che ci si fa un culo veramente con un'acciuga sotto sale per mettere il nostro podcast ovunque nel web e su tutte le piattaforme possibili e immaginabili tra le quali anche Spotify dove ci potete anche vedere, rivederci. Arrivederci. Arrivederci. E niente, questa sera come sempre, come negli ultimi appuntamenti, le cazzate del mondo della pesca e vi ricordo che questa sera è l'ultima serata della Peripesca Live prima della pausa estiva che ci rivedrà a tornare da voi per settembre. Quindi faremo luglio-agosto a grattarci le gonadine in maniera selvaggio provocandoci gravi le lesioni da grattugiamento e poi torneremo a settembre. Vi ricordo poi che potete comunque trovare Beppe, Nicola e tutti i ragazzi del gruppo sul gruppo Telegram di Tinerari di Pesca e abbiamo sia la pagina che il gruppo Telegram di Tinerari di Pesca e poi su tutte le altre piattaforme social dove siamo presenti. infine, ve lo dico a inizio live, dato che è l'ultima, mandateci in ferie a Ostriche e Champagne e Mignotte e stasera date rifondo con le donazioni e dateci una mano a portare avanti questo progetto, perché il software vol pagato. Detto questo, passa la parola a Beppe che presenta la serata e dà un bel giro di saluti. Ciao amici, buonasera, benvenuti. Tanto stavo pensando all'acciughina sotto sale come era poverina street. e mi immaginavo mentre faccio il podcast che ho quella faccia lì. Allora, partiamo con il giro di saluti. Ciao Matteo, ciclopescatore, ciao Liuba, ciao Andrea, Masnos, Giampierino Pesca, salve Mitici Duo, Pierpaolo che è sveglio alle 21.33, ancora sveglio, Fishing Stories che ci vede dal vivo e non indifferita e Graziano, buonasera anche a te. Allora, prima di cominciare con il numero 4 delle cazzatone nel mondo della pesca, siccome nella scorsa live ci avete chiesto un sacco di canne per lo spinning, quale, come, perché e lunghezza. Ciao Michela, che non è Michela, ma è? Michela, rubinato, no, non è Michael, è una... Ciao Michela! Che non è Michela. Ma ti hai fatto un post-it da qualche parte? Sì, ce l'ho, bravo, bravo, se lo ritrovo. Ti hai fatto un post-it. Ecco, ho fatto saltare le camera, fare una maiala. Fai la persona seria. No, ciò non ce l'ho. Ti fai chiamare il dottore e ti dimentichi gli appunti. Appunti, come ogni dottore. Patrick, Patrick, Patrick. Patrick, Patrick, ti fai un account, ma... Grande, Patrick, grande. Si riavvia la telecamera, si rifiuta. Comunque, tornando a noi, siccome nella scorsa live vi ho parlato della... Vi dico sempre tra le canne da spinning, da spendere poco, che vale la pena e bla bla bla. Oggi vi faccio vedere una cosa. Tra l'altro questo è il mio nuovo sito, se volete andare a... Yeah! Visto che il merda che me l'ha tenuto prima mi ha cancellato tutto. Allora, questa qui è la famosissima Intense Pro. che vi dico sempre, che vi cito sempre come canna da spinning, da non spendere tanto. Che è in promo, fino ad esaurimento scorte, con uno sconto del 20% insieme al Molinello Tubertini Tuco. E come parlavamo la scorsa volta, appunto, sono in promozione la 2,40 e la 2,70 con grammature 5,20, 10,30 e 50,100. Grazie, Magnifico. Ah, ma lei mi ha scritto tu. Mi sono un gran commento. Già me l'ero scaldato io. Quindi potete fare la combo tra la 2,40 e la 2,70, le grammature 5,20, 10,30 e 5,70 con un Molinello 3,000, 4,000, 5,000 e 6,000. Qui vedete il prezzo, qui a fianco vedete lo sconto del 20%. Poi... Sei con Flazio? Sì. Ci ho litigato ieri con... Bene. E non è una marchetta per Flazio. Sei invece pescato e bolognese. Un'altra bellissima combo che costa poco. la Tubertini Level Team 2600 AR nella misura 4,5 metri. Anche qui disponibile 3,000 e 4,000. Rifate la combo come volete. Anche qui c'è lo sconto del 20% fino ad esaurimento scorte. In più, solo per gli amici della Peripesca Live che ci seguono da un anno e ci vogliono tanto pene, ho fatto solo per voi, anche qui, fino ad esaurimento scorte, se andate sul sito e nel codice coupon scrivete Aperipesca attenzione Con l'hashtag o senza? No, no, senza. Aperipesca è minuscolo andate lì e vi beccate ancora il 5% di sconto. Quindi in totale 25. Come dicono quelli bravi presto che tardi. In più, sempre per lo spinning se vi può interessare c'è anche in sconto lo zaino monospalla da spinning di Tubertini il Seica che è anche molto carino molto bello e sempre da spinning c'è la travel della Nomura che è in sconto e la travel di Tubertini da 100 grammi che è in sconto. Comunque, se volete fateci un giro ci sono anche degli altri mulinelli e delle altre canne che sono scontate da puntopesca.com buttateci un occhio se c'è qualcosa che vi interessa Ah, mi raccomando il codice sconto Aperipesca vale solo per le due combo non mettetelo da altre parti perché non funziona quindi per le due combo Aperipesca 20% più un altro 5 per i nostri fan e io volvo E io volvo Allora eravamo rimasti l'altra volta a un argomento che avevano chiesto di approfondire che è quello della seconda bobina nei mulinelli Sì Ok di quanto sia l'utilità o meno della seconda bobina fatta di cartone pressato Allora l'altra volta ci avevi parlato del fatto che questa bobina viene messa più che altro per i pescatori fra virgolette anziani abituati appunto alla seconda bobina Ma nello specifico io chiederei anche alla chat chi di voi ha mulinelli con doppia bobina delle quali due bobine una non è in alluminio ma è in materiale plastico Grafite Grafite se proprio se grafite ci scrivi comunque ci prendi gli appunti se proprio la utilizzate o non la utilizzate perché io ti ripeto io tutte tutte cellulia non c'è più la scatola del bar di mulinelli però c'è tutte le bobine messe lì belle nove ma utilizzate quelle in grafite quelle invece in alluminio cioè quando sono uguali alla bobina del mulinello io quelle le riempio sempre e le uso sempre perché comunque per me a me dà la possibilità un singolo mulinello di utilizzarlo in due situazioni diverse quindi sentiamo i ragazzi cosa ti dicono invece te Beppe cosa hai da dirci ancora su questo argomento allora ricordiamo la domanda che avevamo fatto nella scorsa live se nel 2023 ha ancora senso comprare un mulinello con la seconda bobina diciamo di serie che non compri a parte appunto in graffito piuttosto che mettere 5 euro in più 10 euro in più sul mulinello e darti una seconda bobina in alluminio allora partiamo dal partiamo da un concetto e la domanda te la faccio anche a te delle persone che conosci tra svariati pescatori chi più bravo chi meno bravo chi più esperto chi meno secondo te quanti tolti quelli che dicono di sapere tutto di sapere di saper fare tutto sanno veramente qual è la differenza tra una bobina cioè tra montare sullo stesso mulinello una bobina in graffite e una bobina in alluminio e tu parti dal presupposto che chi importa non chi produce perché chi produce produce quello che gli dicono di fare ma chi importa ragiona nello stesso identico modo che ti ho fatto io la domanda cioè quanti si accorgono effettivamente della differenza di utilizzo tra le due bobina e io per rispondere alla tua domanda riassumo quello che è il contenuto di queste tre live e cioè quanti si accorgono che il blu di metilene è totalmente inutile quanti si accorgono che tante volte il sapore delle boizze è per il pescatore e non per la carpa perché alla fine il sapore è quello cambia l'odore ma nell'acqua l'odore lo sento poco e nulla quanto si rendono conto della differenza della vera differenza fra una culla maltenuta e un materassino ben tenuto invece o la differenza fra l'erba e un materassino sotto il sole tanto è l'ultima live poi ci si vede a settembre il 99% no 99% ma un buon 90% dei pescatori sono dei caproni siete dei caproni che qualsiasi asa vi raccontano e la prendete per partito preso e va bene perché ve la raccontano quelli bravi e quello che io negli anni Beppe ho cercato di fantenda le persone vi sto parlando proprio nel mio dialetto di fantenda le persone è che quando la gente mi commenta buonasera a Luca Scrocco quando la sera la gente mi commenta sui video ma questo ma te ma qui ma no io ragazzi non sono un professore mi chiamate il dottore ma è una battuta perché studio perché sono infermiere e quant'altro ma nella pesca io non ho nulla da insegnare a nessuno ma come il 99 perché questo è proprio il 99% dei bischeri che vedete fai video di pesca siamo una brancata di bischeri che vanno a pescare e vi fanno divertire quello è l'influencer ma anche il garista se lo togli dalla sua tecnica dove è un fenomeno nell'arte tecnica ci può avere estro ci può avere intuito ma è al pari di qualsiasi altra persona che ci abbia appunto un po' di estro e un po' di intuito detto questo il 90% dei pescatori stanno a bocca aperta e quel che gli ci tirano dentro le aziende lo prendono e lo cianciano da una parte il pescatore di questo tipo ma dall'altra parte anche il pescatore che compra solo esclusivamente dalla Cina come facevo io a un certo punto della mia carriera di pescatore che ero convinto che solo dalla Cina si potesse comprare bene e quindi compravo solo lì qualsiasi cosa mi dava al mercato cinese io ero la persona più perché del podcast espressione beata ero tutto felice che avevo fatto l'affare cioè di base il 90% dei pescatori sono come me perché mi ci metto anch'io degli idioti funzionali che qualsiasi cosa ci danno noi la prendiamo senza capirne l'effettiva differenza ti dico dal mio punto di vista negli anni poi ho capito Beppe qual era la differenza nell'utilizzo pratico di una bobina in alluminio e una in grafite ma nelle prime volte semplicemente quella in alluminio è più bella mi garbava di più e a me quella in grafite mi faccia ca poi ho capito invece le differenze il fatto del bilanciamento del mulinello della resistenza della bobina e di mille altre cose in pesca utili e non utili però purtroppo bisogna anche renderci conto secondo me Beppe questo è poi un mio punto di vista che non tutti i pescatori hanno anche la voglia il bisogno o il desiderio di approfondire la conoscenza di questo sport per tanti gli basta dare in mano una canna un mulinello un filo un galleggiante un amo e andare a fare due pesci se fanno il pescione sono contenti se non lo fanno moccolano dicendo non è colpa mia no magari ti applicavi un po' di più però la maggior parte delle persone Beppe sono così poi ci sono quelli come te che arrivano ad aprire un negozio tanto sono malati per la pesca gente come me che ci lavora sei ore al giorno a fare video di pesca contenuti e quant'altro per promuovere la pesca ma c'è anche la stragrande maggioranza di persone che non sono così che sono diciamo dei pescatori da tiktok che scorrono vedono il consiglio del primo bischero come me che gli passa davanti e lo prendono per oro colato ecco la risposta allora guarda ti voglio chiedere secondo te o secondo anche voi in chat è giusto accontentare il pescatore medio e chiedere al pescatore esperto se la vuoi bella te la compri cioè io ti propongo un molinello a un prezzo di attacco più basso con la sua bella bobina in alluminio e se vuoi la seconda bobina in alluminio te la compri te la paghi 15-18 euro mentre al pescatore che ha meno esigenze io faccio comunque un molinello con un prezzo di attacco conveniente e per farti comprare ti do la seconda bobina scadente quindi tu sei d'accordo con la politica commerciale di un porto e un molinello come si faceva come fanno con le auto c'è il modello base e poi ci sono gli optional e gli optional se ce li vuoi ce li paghi come una volta negli anni 80 ti davano una macchina con lo stereo di merda se ti andava bene tenevi quello stereo lì di serie se no ma anche ora nelle macchine ti danno lo stereo di serie non male lo stereo di merda nella macchina costa 500 euro lo stereo di merda se non lo vuoi ti rimane il buco tu con 50 euro ti compri uno stereo che è meglio di quello che ti montano di casa la macchina però il discorso è io ti sto dando l'optional ma te lo sto dando di scarsa qualità perché tu vieni attratto dal prezzo e non dalla qualità dell'optional cioè perché per venderti se il mulinello è meno di qualità perché un mulinello di qualità non ha la seconda bobina in grafite ma ce l'ha in alluminio diciamo che già il tuo prezzo di base anche senza la bobina sarebbe comunque accattivante perché stiamo parlando di euri forse sulla quantità che può costare una bobina io in più ti propongo la seconda bobina cosa scatta nella testa di chi compra e anche quando si parla tra amici che cosa hai comprato che cosa non hai comprato io compro quelli perché hanno la seconda bobina cioè l'optional della seconda bobina se tu lo guardi sotto l'ottica dell'utilizzo è sicuramente un vantaggio perché tu come fai tu due bobine ci metti due tipi di filo con un molinello magari fai più tecniche di pesca o comunque hai la possibilità di poter variare la differenza in diametro del filo mentre chi fa la stessa cosa e lo vuol fare con qualità ci deve spendere soldi ora quello che io continuo a sottolineare è se io ti do una seconda bobina in alluminio e ti faccio pagare il molinello 10 euro in più tu che utilizzi la seconda bobina solo per avere un di più spenderesti ugualmente quei 10 euro in più vedendo la qualità del prodotto che hai in mano cioè sei abituato alla plastica io ti dico guarda questo molinello costa 10 euro in più ma la seconda bobina è uguale a quella che hai all'interno con tutti i vantaggi e i privilegi che ha la stessa bobina su cui il molinello è stato costruito perché quello che la gente non pensa fai la domanda e poi mi fai rispondere perché poi riparti ogni volta fai la domanda ti sei cazzo perché poi riparti io mi aggancio alla domanda poi la perdo poi la riservo qual è la domanda la domanda è è meglio secondo te è meglio mettere una seconda bobina scarsa di qualità e non far vedere mai a chi è abituato a comprare quella seconda bobina scarsa o fargli vedere che con 10 euro in più può comprare un mulinello con la seconda bobina e qui stavo finendo il discorso con le stesse proprietà di quella che monta di base il mulinello che sta comprando perché tu con la seconda bobina non hai le stesse le stesse performance che hai con quella seconda che utilizzi il tuo scopo è quello di pescarci e di pescarci con un altro filo ma con delle caratteristiche differenti allora ho capito quello che chiedi hai capito allora ti do due tipologie di pescatori intanto per chi vende deve andare alle masse e la massa come ti dicevo dei pescatori oh c'ha due bobine questo non sa nemmeno la differenza quindi non importa la segra che sia un grafite in cartone o in diamante se gli scrivi in ABS in quel che può essere se è finta disegnata scena due tanto la seconda Beppe non la useranno mai mai se non permetteci del filo di riporto da ammucchiamento io non conosco un pescatore mai visto un pescatore pescar con la seconda bobina di grafite detto questo poi se te ci fai caso e io ci ho fatto caso andando mese dopo mese dopo mese in negozio e me l'ha fatti vedere uno spiccinio il buon Jonathan di mulinelli il mulinello che ha di solito anzi nel 99,9% dei casi i mulinelli che hanno la seconda bobina in grafite sono di fascia medioeconomica perché il mulinello di fascia alta si vergognano a metterci perché il mulinello di fascia alta va a due tipologie di cliente principali te del negoziante lo sei meglio di me uno è l'esperto che dice mi voglio fare un regalo me lo prendo come Dio comanda con le mie due bobine in alluminio me lo uso come deve ma il 99% degli stella vanno in mano a della gente che ha solo delle palanche perché pesca un zanno pesca e se tu gli metti in mano uno stella o gli metti in mano un argano di quelli che usano meccanici per alzare i motori dalle macchine non capiscono la differenza hanno delle palanche e le spendono perché lo stella è uno status sociale è l'iPhone dei mulinelli io ci pesco con della gente ha dei mulinelli stella si va a pesca loro c'hanno gli stella io di me c'ho un mulinello da 30 euro e gli faccio un culo così se si pesca nella realtà della libera perché? perché è inutile averci lo stella poi scusami stavo infervorando quindi ti dico quindi ha senso ha senso secondo me fare nella fascia medio-bassa la seconda bobina in merda e poi se la vuoi perché sei uno che vuole spendere poco in fascia bassa ma vuole un prodotto di un certo tipo comunque come me che non sono uno che spende tanto però mi fa piacere avere la doppia bobina perché ne faccio un utilizzo non so però sono povero e quindi non ho problema non sono povero non sono come quelli che possono spendere 500 euro per uno stella e ti dico ho piacere che ci sia però se compro un fascia economica se c'è o non c'è la seconda bobina posso anche farne a meno se è in graffite perché tanto non la uso però ti dico nella fascia economica sì nella fascia medio-alta se mi metti la bobina in graffite sei un coglione e anzi mi devi mettere le due bobine perché se scelgo di pagare di più voglio anche la bobina in alluminio però ti ripeto ciao Cristian però ti ripeto il 90% della gente che c'ha lo stella in mano punza nemmeno che cazzo c'ha in mano ho visto gente aprirgli stella per farsi da soli la manutenzione dio bono dacci il coso lo svitol su una stella allora invece ti voglio chiedere e vi chiedo anche a voi dalla chat immagino che tanto qualcuno lo conosciamo più o meno della nostra età quindi sono mulinelli che si conoscono ah scusa per quelli che sono entrati dopo e mi sentono inveire così io mi metto fra gli incompetenti come mai allora ad esempio i vecchi mulinelli ad esempio i vecchi Mitchell vecchi Shimano quindi non stiamo parlando di aziende delle balle erano già comunque mulinelli erano già comunque mulinelli che costicchiavano per gli anni venivano venduti con due più e più bobine anche tre quattro bobine tutte in grafite ma tutte comprese quella del mulinello non è che una volta no non è no non è che una volta l'alluminio non c'era non è che non le facevano non è che una volta con la fresa non facessero non potessero fare le bobine non bobine in alluminio la differenza secondo me è la progettazione cioè se tu progetti un mulinello con la bobina in grafite ah te dici a prescindere se tu gli le dai un'altra se tu gli le dai un'altra la prestazione non cambia è pari e patta se tu mi venghi un mulinello con una bobina in alluminio per rendere il mulinello figo all'impatto che poi c'è bobine bobina alluminio alluminio trattamento e trattamento perché non è che mulinello da 30 euro con la bobina in alluminio è uguale al mulinello da 200 euro con la bobina in alluminio o alluminio e qualcos'altro quindi c'è da fare anche quella differenza non è che le due bobine sono identiche però quello che penso io è sempre per tornare al solito discorso del come funziona o almeno fatemi vedere come funziona poi sarò io con i miei soldi a decidere come spenderli e se voglio se non voglio determinate caratteristiche ad esempio io per anni ho venduto i mulinelli della Okuma loro sui paroloni ci hanno fatto una storia una leggenda non so penso al mulinello da 30 euro da 40 euro con l'effetto ciclonico mazzo l'effetto ciclonico il mulinello da 180 euro ha l'effetto ciclonico scusate ma io compro un mulinello di fascia bassa c'ha questo effetto ciclonico compro un mulinello da 200 euro e la bobina c'ha l'effetto ciclonico scusi perché devo spendere 200 euro cioè se questa è una base di qualità del mulinello se voi vi vantate di determinati brevetti che avete solo voi dice vabbè ci sono 100 euro di differenza ci saranno 100 euro di brevetti che dividono un mulinello da 50 da un mulinello da 150 da 180 poi vai a leggere le caratteristiche il mulinello da 50 euro è stato progettato a computer per diminuire le oscillazioni vai a guardare quello da 180 euro anche lui ha lo stesso brevetto per le oscillazioni scusami ma come cazzo io compro un mulinello da 50 euro e c'ha sti brevetti compro quello da 180 e c'ha gli stessi brevetti poi fondamentalmente quante persone si accorgono quando hanno una canna in mano e stanno pescando che il mulinello quando tu recuperi fa questo lavoro qua che oscilla no a quante persone a quante persone sì e quando sei in pesca comunque recuperi cioè o fai una pesca di recupero come lo spinning ma se no se fai una pesca come ti faccio un esempio il feeder è una delle pesche più stronze per il mulinello cioè io consenti di oh ho preso un mulinello che pesa 200 grammi meno per il feeder ma te tutto il giorno con la carne appoggiata in terra ma cazzo si ne frega quanto pesa il mulinello pesa un 3,8 kg tanto sta lì appoggiata tutto il giorno vabbè beppe scusami no allora io ho approfondito un po' il discorso per curiosità poi è sempre il solito discorso c'è chi non gliene frega niente e c'è chi per curiosità vuole approfondire ho preso tutti i miei mulinelli non quelli che mi dicevano ho preso tutti i mulinelli che avevo io quindi fascia medio alta io non ho mulinelli da 300-400 euro e l'ho appoggiato la canna no e ho cominciato a fingere il recupero ora in effetti ci sono alcuni mulinelli che ti spostano proprio la canna dalle mani ma è impressionante se ci fate caso provateci così un giorno se vi viene in mente questa cosa ci provate tenete la canna in mano impugnata all'altezza del mulinello come se dovesse recuperare cominciate a recuperare anche con un po' di velocità con un po' di resistenza e proprio vedrete che la canna fa proprio che si sposta è chiaro che dall'altra parte normalmente avete un pesce quindi in pesca si sposterà decisamente meno e provate a farlo con tutti i mulinelli che avete e noterete che la canna si muove in maniera diversa con ogni tipo di mulinello cioè più è grosso più chiaramente sposta aria e quindi fa più attrito e vi sposterà la canna più è piccolo e meno fa meno fa quel lavoro lì ora da lì io ho cominciato a provare a vedere i negozi ogni volta che arrivavano di questi mulinelli da l'ocuma a vedere se effettivamente anche senza il mulinello senza la canna scusa prendendo il mulinello in mano e facendolo girare se effettivamente di suo oscillava di più oscillava di meno ora io non so se anche gli altri studiano questa cosa dell'oscillazione che comunque è fastidiosa se lo noti perché se non lo noti no parliamoci chiaro io adesso ve lo sto dicendo magari domani vi siete dimenticati magari adesso andate in garage tutti col mulinello a vedere quanto vi sbarella la canna ma se lo sai e lo noti potrebbe essere una cosa fastidiosa io ho guardato anche altri mulinelli paragonandoli a questi che dicono di aver risolto questa cosa che il loro mulinello ha un 80% in meno di oscillazione rispetto a tutto il mondo ora io onestamente tutta questa differenza non l'ho vista trovo che sicuramente i mulinelli di nuova concezione corpo piccolo ciao Stefano corpo piccolo e bobina grossa ok non il classico mulinello proporzionato ma corpo piccolo e bobina grossa tendano di più soprattutto quando si fa un recupero abbastanza veloce a oscillare un po' però perché il peso è sulla parte alta ok però vogliamo farne un caso di stato no se tu hai questa fissa sì però il pescatore che c'ha l'effetto ciclone ma allora mi giro mi metto a paura e ti do anche la vasellina culimi la realtà è così ma tu sai che cos'è l'effetto ciclonico ma che sono che effetto è qualcuno qualcuno che ha un mulinello o cuma adesso poi ve lo spiego ma qualcuno che ha in chat che ha un mulinello o cuma ha per caso comprato un mulinello con effetto ciclonico mi fa ridere mi fa ridere questa cosa perché credo di essere stato uno dei primi perché io di altre recensioni di mulinelli o cuma prima che finisse in mano a un'altra azienda non ne avevo mai visti su youtube infatti diciamo che molti di quei video sono andati bene perché non c'era una recensione in italiano e quindi è una cosa che quando faccio la recensione dico sempre che il mulinello ha questo effetto ciclonico quindi in chat nessuno ha un okuma che gli vola il mulinello quando spiegaci cos'è questo effetto ciclonico praticamente l'effetto ciclonico se voi andate su un video su un video originale dell'okuma di una traduzione dove ti spiega tutti questi brevetti tutte queste cose queste cose spiega l'effetto ciclonico è un vortice che si crea io ne ho due è il tuo poi Pierpaolo sicuramente ce l'ha l'effetto ciclonico dovresti essere uno di quelli che quando pesca lo nota questo effetto ciclonico comunque è un l'effetto ciclonico è un come dicono loro è praticamente è un turbine che si crea tra l'archetto e la bobina che serve ad espellere l'acqua che c'è nel filo ogni volta che voi recuperate il filo e la bobina gira o viceversa che lo lanciate comunque quando la bobina gira hanno messo una lavatrice nel mulinello si crea si crea un effetto turbine che fa sparare via tutta l'acqua dalla bobina e quindi vi serve per alleggerire il filo perché non vi rimanga acqua e se pescate al mare che non vi rimanga acqua salata nel filo e questo è il famosissimo effetto ciclonico dei mulinelli Ocum a me nessuno mi ha mai detto hai detto una cazzata è una cazzata e non funziona ma nessuno mi ha neanche mai detto da quando ho comprato questi mulinelli quando recupero devo mettere la maschera perché mi riempio di acqua non so se funziona o se non funziona facciamolo un brand noi e lo facciamo insieme a questa persona qua insieme a buon Grassini Grassini ha già capito cosa farlo facciamo l'effetto squirting potrebbe essere che te quando giri schizza tutte le parti Andrea che ne pensi ci finanzi ma il pesce a bocca lo stesso se usi la bobina in grafite a voglia a voglia il problema della bobina in grafite è un effetto super ciclonico quando recuperi muove pure il portacanna se ci credo ma il coppia si è attopato ma io lo so il coppia è vero è sparito totalmente ma anche come community manager era 20 giorni sono andato a ricoprire messaggi mi gestisce messaggi su youtube sono andato a vedere 20 giorni non rispondeva nessuno certo io infatti ho ripreso un po' tutti i commenti ora adesso a parte le cavolate perché poi adesso noi ridiamo scherziamo ma effettivamente c'è gente che ci studia c'è gente che ci progetta quindi adesso non è adesso ridiamo scherziamo però non è che uno vuole parlare male di chi di chi lavora o se scrivi una cosa è vero o non è vero però c'è da dire che in effetti alcuni mulinelli soprattutto di grossa taglia di fascia medioeconomica quelli effettivamente alcuni quando li vedi girare in momenti veramente ti strappano la placca perché secondo me sono veramente concepiti a capocchia cioè deve costare poco deve essere grosso e tutto il discorso finisce lì perché io ho una mia ho un mio credo non so se tu sei d'accordo se te lo dico e anche il chat non so se voi siete d'accordo però io sono di quelli che dice che dietro un buon progetto di pesca c'è un grande pescatore dietro un progetto delle palle non c'è un pescatore c'è un disegnatore c'è un'idea c'è tante cose ma se voi ci fate caso sulle cose fatte bene utili che compriamo ed effettivamente sono utili e studiate anche per come le avremmo voluto utilizzare noi dietro c'è l'idea di un pescatore che le ha fatte perché sa quello che sa quello che che vuole fare l'azienda poi ci sono quelle cose che nascono da idee di uno che non è del mestiere ma ha un'idea e effettivamente tu la compri perché ti sembra che l'idea sia buona poi quando la utilizzi dici ma chi cazzo cioè se sei uno che pesca come fai a non capire che ha questo problema perché se non pesca quello per tarare i galleggianti dell'escompo esempio vabbè ma lì quello secondo me essere fatto per lui ha detto ma probabilmente potrebbe servire anche a qualcun altro ma è quello che ti dicono quando io ti dico che quelle pasture non mi funzionavano neanche ma neanche no fatti vedere in faccia cosa dici queste quelle pasture non mi funzionavano io pescavo qui ho fatto un video Fidel Colle More che usavo queste pasture e accanto avevo questi che usavano delle altre pasture io per riuscire a fare il video ho dovuto prendere la loro pasture perché la mia pasture eravamo a due metri di distanza io e quell'altro ragazzo non facevo un pesce cambiata la pasture perché perché chi ne fa non cioè come dici te inventa prova fa briga ma non è un pescatore quindi non sa come deve lavora una pastura qual è la meccanica cioè quando ti dici io faccio feeder ok ti mando le pasture e mi mandi le pasture ma faccio method feeder e mi mandi le pasture con la grana così per chi guarda per chi ascolta il podcast grosse come un pompelmo cioè io come faccio a metterla sul method e a farla funzionare oppure che ne so una pastura che quando la mischio le mani mi rimangono rosse per una settimana e mi devo mettere guanti per mischiarla o che quando la lancio sul pasturatore bagnala poco bagnala media bagnala tanto ti ci sta 40 minuti sul pasturatore e che c'è guai se ce la lasci quando vai via che dopo ci vuole lo scarpello per le valla perché è malta bravo Andrea ecco lui è proprio l'esempio voi lo sapete che io sono fan sono un fanboy di Tubertini e lì per dirti nel settore spinning da quando sono arrivati i ragazzi la vedi la differenza ma la vedo io che quando acquisto quando guardo il catalogo la vedi la differenza di chi ha scelto che poi magari non gli hanno prodotto tutto quello che volevano perché non è che possono loro possono andare lì fatemi questo però almeno loro hanno la possibilità di guardare di scegliere la meno peggio o quella che la prendono la usano la provano ok vale la pena essere prodotta o in prodotta o in portata in Bolcarlo che avete visto in live che l'abbiamo portato in Moncarlo la maggior parte della roba da spinning che ha scelto lui perché adesso lui è il responsabile di Seica e io che lavoro con Tubertini dal 2000 e quindi le ho viste la differenza nello spinning da quando non c'era lui o per dirti quando c'era qualcuno dedicato al mare determinate esche determinate canne vedete proprio la differenza tra il settore mare in mano a un un esperto e tutto il resto in mano a catalogo prendo questo 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 quello e quello no e Marco è un altro Marco è un altro che quando ci mette il nome lui sull'attrezzatura e quindi comunque fondamentalmente ci rischi la faccia perché se ci metti il nome ci rischi anche la faccia però lo vedi le canne sono a modo o non so penso a a Nardi quando è arrivato in Tubertini determinati fili che ha che ha fatto fare lui per il surf casting ancora li cercano perché ad esempio in quel settore Tubertini non aveva un responsabile non aveva un bravo pescatore e quindi si vendeva la roba perché c'era scritto sopra surf però dopo di quello se volete discutere tra le altre cose abbiamo fatto il post guarda l'altro giorno su cosa ne pensano le persone appunto dei volpi cioè di quello che ha fatto il volpi di queste cose qua quindi se volete ne possiamo anche continuare a discutere di là su Facebook ma per dirti io ho sempre in mente ricordo con sempre col sorriso il giorno in cui sono usciti i sabichi della Tubertini by Marco Volpe lui fa un video prende il figlio ed altri due bambini li porta con la barca dove sa lui cioè li porta in un pozzo pieno di pesce per carità se non è che è prendersi tre bambini gli monta le canne con i sabichi di Tubertini e li mette a pescare mi pare che il video dura 20-25 minuti lo fanno uscire di testa cioè ogni volta che buttano giù la canna tornano 4-5 pesci slama poi tira sull'altro slama tira sull'altro slama tira sull'altro slama dopo 20 minuti gli dice oh tipo ma avete rotto le palle basta tiriamo giù le canne ne abbiamo bene oh credimi dal giorno dopo dal giorno dopo la gente voleva soli sabichi tubertini ora non ti dico che loro erano i più buoni del mondo se non pesco con quello non pesco più però quella è stata una genialata una furbata di un prodotto di fascia media perché sabichi costano anche 12 13 14 euro a montatura quelli costavano il giusto erano catturanti erano sponsorizzati da una persona che nel mondo pesca è conosciutissimo è catturante oh hai vinto cioè non è che hai capito se tu prendi io ho mille aziende che vendono sabichi che costano anche qualcosa in meno io continuo a comprare quelli ma non perché magari gli altri catturano meno è che con quelli sono sicuro sono sicuro che io te lo do tu un pesce lo fai poi sta a te sei bravo non sei bravo il posto io racconto tutta la storia non è che è sempre come di Marco Volpi che per carità però con quelli io sono sicuro che chiunque li ha comprati almeno un pesce l'ha fatto perché chi li ha selezionati ha capito che quello era un buonissimo prodotto qualità prezzo da dare a tutti perché chi vuole comprare il sabichi da 12 13 15 euro non ha bisogno dei sabichi di Marco Volpi sa già che cosa sta comprando no per tutto il resto c'è quello bravissimo bravissimo questo è capito secondo me il crucio e il discorso sul mulinello tornando a fare il prendere la larga no tu dici sì serve a girare sì serve a recuperare sì serve a questo serve a quello e per quello che io ti dicevo alla fine è meglio accontentare il popolo oppure far capire al popolo che con 10 euro in più potrebbe avere delle performance migliori ma il popolo non riesce a cazzo ha capito ma tu almeno dai ma io che vendo ma io che vendo ti dico in fascia bassa c'è questo in fascia medio alta c'è quest'altro ma io ti perdo sicuro perché io ti dico questo mulinello costa 50 60 c'è la seconda bobina no la seconda bobina no se la vuoi si acquista a parte però è uguale identica a quella che stai acquistando oppure puoi scegliere anche in base al modello la bobina match quindi a bassa capienza puoi farti una ad alta capienza e una a bassa capienza e ma quanto costa va tra i 15 dai 15 18 euro in base al modello quindi tu già hai speso 60 euro dici mica devo spendere altre 20 e poi vediamo tu non la prendi non la prendi 9 su 10 non la prendono non la prendono quindi rimangono che tra virgolette se tu gli dici ok c'è la seconda così compresa il mulinello ah vabbè alcuni ti dicono si la uso altri ti dicono vabbè tanto a me se c'è se non c'è vabbè poi magari se ce la uso però tu in realtà gli stai vendendo un prodotto che va a non performare in base a come gliel'hai venduto cioè chi è che ti racconta questa cosa il coglione di turno che ti sta dicendo guarda che il mulinello con quella bobina non è performante come tanti pochi qualcuno se ne accorge che ti dice eh ho messo su questa a parte il rumore che fa quel rumore no poi ogni tanto la vedo a leggera praticamente di plastica la prossima volta spendi 10 euro di più e ti ompi una bobina a modio eh e così gli si risponde ragazzi l'inculata c'è pesa tutti non è un'inculata avevi a cioè ora vedi Beppe io posso capire questo ragionamento ehm fatto negli anni prima dell'internet ma se ora te non hai lo sbattimento di prendere e aprire il telefono google chrome e scrivere differenza fra la bobina in graffito e quella in alluminio e non ti interessi non ti formi io te la vendo sì se la pili pompiti poi vieni a lamentare cioè avevi modo di saperlo capito di documentarti di conoscere la cosa dovevi andavi in una libreria in una libreria nascosta nel bosco alle 3 del mattino nella prima notte di luna piena per capire il segreto della bobina in graffite capito? sì io sono sempre sono d'accordo con te eh come si dice la legge non ammette ignoranza no? però se la togliessero proprio dalle palle la graffite e la e la la destinassero solo all'eco-eco 15 euro bobina in graffite bobina in graffite tu non hai pretese spendi 15 euro però a questo punto quando ne spendi 50 ne spendi 60 ma non con la possibilità di scegliere tra 50 e 60 60 punto e tu hai un mulinello con due bobine con le stesse performance punto cioè tu non devi spendere 50 e avere un mulinello che poi non è che non funziona funzionerà meno bene ne spendi 60 punto se no te lo compri di plastica 15-20 euro fine allora una volta che abbiamo comunque fatto tutta la serata così non volevo recuperare Stefano Calderolla no? a parte il messaggio del buon Andrea che dice per il volto di ragione sul piano professionale numero uno riguarda i ragazzi dello spinning alcuni molto vari altri troppo montati di dare da mangiare con la stromola guarda posso posso dirti una cosa Andrea sai qual è il problema dei ragazzi dello spinning in Tubertini purtroppo è che sono giovani ma parlano da vecchi e agli occhi dei dei vecchi sembrano giovani presuntuosi agli occhi dei giovani sembrano giovani vecchi ok ma è un po' lo status che ti porta all'azienda a essere poco cazzaro ok e un po' troppo sul professional perché poi ti posso assicurare che se ci vai a bere una birra insieme ti scassi da ridere io gli ho detto un milione di volte ragazzi mollatevi un po' anche quando devi spiegare un filo minchia sembra che stai spiegando una bomba nucleare cioè sembra che stai facendo un sorriso in più non ti dico due battute no? però ad esempio se tu guardi Glauco che è il proprietario lui è più cazzaro nel parlare quando spiega l'R18 una canna a 400 milioni di euro che lui dovrebbe essere super professionale lui che è da buon bolognesone ti spiega una bolognese te la spiega molto più semplicemente ma è vero che è il capo e quindi nessuno gli dice niente loro essendo parte della legge semigliana che ha un certo status una certa cosa sono un po' rigidi nel pubblico il pubblico ma poi in realtà se ci vai a parlare insieme quando hanno finito la gara quando è sono molto più molto più tranquilli però in effetti buon Stefano Calderola ci dice ragazzi magari sarò off topic ma io ho un blocco forse più psicologico che altro pesco da quando avevo 5 anni ora ne ho 42 tra feeder e spinning attrezzato di tutto punto ma adesso è come se avessi paura di andare a pescare per non fare cazzate allora Stefano spiegamelo meglio credo per non rompere però credono credo cioè io una cosa simile la vivo per esempio con credo che forse siamo sullo stesso ambito però con il discorso dei video cioè io quando vado a fare una pescata Beppe la ragiono in ottica video di pesca non riesco più a ragionarla in ottica vado solo a pesca non so come spiegare cioè io devo avere sempre la telecamera con me e ragiono sul tipo ora vedi come ti dicevo prima del pre live invece da fare 4-5 pescate questa settimana seleziono non quella che mi piacerebbe di più da togliere quella che piacerebbe di meno ma quella che potenzialmente può non darmi il video la vado ad eliminare dalle pescate capito? questo è perché io non riesco a fare video in pesca come la potenza ogni tanto quando vedo qualcuno che pesca mi piace sedermi lì a fare due chiacchiere si parla come se fosse invece di assai come si risolve vai a pesca a fine anche a me per esempio ti devi forzare Stefano veramente è una violenza psicologica che ti devi fare come è successo a me io ho fatto anche dei periodi ragazzi io l'ho fatto recentemente ne ho parlato nell'ultimi 2-3 mesi sono andato a pesca una o due volte io andavo a pesca 5-6 volte al mese stavo per smettere di andare a pesca ho avuto una crisi mistica perché il fiume non rendeva le pescate andavano di merda le difficoltà sul lavoro le difficoltà economiche mi hanno portato a avere troppi problemi diciamo in vita privata che comunque i ragazzi abbonati sanno perché glielo ho detto nei vari video che ho fatto per gli abbonati e quindi anch'io non riuscivo più Stefano mi alzavo la matticevo la sera prima cioè due giorni prima dicevo non vedo l'ora da andare a pesca poi il giorno prima che dovevo preparare le attrezzature Beppe già mi rodeva e la mattina mi svegliavo con le attrezzature pronte i bachini comprati e facevo no via stamani mi dedico all'orto non c'ho voglia tanto tanto è brutto tempo tanto non prendo nulla tanto come minimo il video non ci viene fuori spendo dei soldi per nulla economicamente un posto cioè trovavo tutte le scuse e me ne stavo a casa poi a un certo punto Stefano ha fatto semplicemente questo chi ha fatto la canna da pesca sono andato a pesca punto come va va se va bene bene se non va bene va bene e infatti voi avete cominciato a vedere dei video dove ci sono delle catture così però spero di avervi fatto vedere l'entusiasmo che mi è tornato anche facendo quelle catture da 10 cm ma perché perché finalmente ero a pesca perché avevo voglia di pesca ma la fotteva proprio niente del video se veniva al video cioè c'è stato un video addirittura in torrente che è stato il grassini a dirmi durante se stavo tornando a casa a torno ho fatto tre pescetti non ho ripreso nulla vado a casa che me ne frega ha detto Nicola riprendi tutti i paesaggi tutti gli ambienti e fai vedere la bellezza dei posti dove sei a noi ci piace vedere anche quello magari no se no io il video non avevo proprio fatto e me ne ero sbattute i coglioni quindi Stefano va a pesca perché credimi che la pesca è una di quelle passioni uno di quegli hobby che veramente riesce a farti staccare totalmente dal mondo che hai intorno a staccare cioè io quando ho smesso quando ho smesso e quando ho smesso di pescare mi sono reso conto che è stato il più grande errore che potevo fare perché quello che ti dà lo stare sul bordo di un lago stare in mezzo al mare stare su una spiaggia stare con le gambe in un torrente in un fiume cioè ti lava via per veramente ogni problema ogni pensiero te per quelle ore lì non pensi altro se non a quella che è la tua passione quindi va a pescare non rompe il cazzo ti dà le palle e va a pescare Stefano io ti racconto la mia io invece non sono andato a pescare per un anno e mezzo perché avevo problemi alla schiena e come si dice quando la fatica è più del gusto cioè io andare a pescare un giorno e star male quattro giorni mi era passata la fantasia e non riuscivo neanche più ad andare a vedere la gente pescare perché mi veniva il magone perché io vedevo l'oro e volevo pescare poi quando quei rari casi che magari andavo a vedere dei clienti degli amici che pescavano le gare e quant'altro magari in un momento ti finisce la canna in mano senti quel brivido no? quell'emozione che un po' che non provi la senti cazzo però però io nel mio caso non potevo farlo perché mi sarei fatto del male ad andare e quindi ho proprio evitato e mi sono trovato delle altre cose da fare adesso che forse in questi ultimi due mesi ho risolto il problema però devo ancora capire se effettivamente il problema è risolto oppure no nel momento in cui risolverò il problema io quel brividino tocca risentirlo perché poi è come la bici tu ce l'hai buttata in garage non la usi per anni poi ci risali sopra dai due pedalate ti fai il giro dalla città ti fai una passeggiata però è bello ogni tanto prendere la bici e andare a farsi un giro ecco dipende da quanta voglia hai di prendere la bici e girare se hai voglia di prenderla ogni tanto prenderai la canna e andrai a pescare ogni tanto se invece ti viene voglia di andare spesso in giro con la bici prenderai la canna e andrai a pescare spesso perché poi c'è anche l'eccesso c'è chi ne ha fatto come si dice si è riempito di qualsiasi cosa io conosco degli agonisti che hanno pescato per 30 anni adesso non escono di casa più per andare a pescare dici cazzo sei in pensione adesso potessi andare a pescare prima facevi sacrifici tornavi da lavoro la moglie il caso i figli andavi giravi facevi 5-6 gare al mese te la sei vissuta anche male in alcune situazioni adesso che avresti il tempo la pace per poterlo fare non lo fai eh ma ho pescato per 30 anni che cazzo vuol dire pescato per 30 anni poi cosa c'è è la scadenza scauta la licenza non puoi più andare a pescare e hanno fatto un pieno no e non ci sono quelli che non si divertano più fino a quando non riscatta quella scintilla che ritrovi di nuovo quel brividino il mio socio di pesca il mio socio del negozio lui ha ha fatto sempre pregare di pescare la trota no tu lo porti lui pesca tutto pesca in mare storione carpe ma quando pesca le trote che lo porti a pescare le trote lo vedi che gli si illuminano gli occhi perché quella è la pesca che ha sempre fatto e io gli ho sempre detto tu hai più sangue di trota addosso che sangue tuo normale con tutte le trote che hai chillato nella vita a te l'unica cosa che ti può risvegliare il sentimento è brutto è quel crack di quando scanna la trota no perché è abituato è una cosa che gli piace fare quando lo vedi pescare la trota gli si illuminano gli occhi e lì è un killer esatto lui è un killer truth proprio guarda io non le ammazzo perché mi fa senso non ce la faccio ma quelle poche volte che andiamo a pescare la trota e dobbiamo chillare perché siamo in un posto che dobbiamo per forza chillare io gli le butto per terra e gli ho detto ammazza di te perché io dobbiamo portare via per forza sì dobbiamo riempire il secchio sì ammazza di te io non ce la faccio e lui cioè quella cosa lì gli viene naturale pescare la trota gli diventa naturale adesso lui è uno di quelli che in questo momento si è rotto le palle di pescare va in giro col figlio il figlio adesso ha 17 anni fanno più cose insieme adesso per un po' lui ha mollato di pescare ma se lo porti a pescare le trote gli si illuminano gli occhi perché quella roba lì gli piace Stefano devi tornare a trovare la luce di quando vai a pescare a volte anche cambiando tecnica però lo sai può essere io sono nato con il feeder fishing ho fatto tanti anni tuttora sto facendo specialist qualche video esce anche a specialist ma ora sono molto focalizzato sulla trota torrente perché a me la trota torrente mi fa un pazzo ho provato vari spinning il luccio il siluro il bass ma come mi garba la trota torrente ragazzi madonna da un casmo 22 e 27 stiamo per chiudere questa serata allora il buon manutasso dice per esempio Nick nell'ultimo video in torrente che hai pubblicato anche se magari hai preso due trotele di 10 centimetri per me non sono stati quei due pesciotti a rendere il video in sé bello ma il senso di pace di qualità dell'immaginatore di andare a pescare e rendere il contenuto molto bello piacevole ti ringrazio grazie mille questi sono messaggi di apprezzamento che metto qua nel cuore dove c'è anche il logo di Dio detto questo ragazzi si va in chiusura con tre minuti di anticipo perché mettere un altro argomento ragazzi ormai siamo siamo agli sgoccioli io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno fatto compagnia fino ad oggi nelle puntate del quale sarà il tuo prossimo tour risponde al buono non ce le saranno allora ragazzi vi spiego la faccio breve per dei problemi vecchi di mio padre mi trovo mi hanno bloccato il quinto dello stipendio quindi io purtroppo non riesco più a mettere da parte quei soldi che usavo una volta per viaggiare quindi vedremo un attimino come risolverla nel tempo e negli anni non ho mai chiesto agli utenti di DIP quindi non voglio continuare a farlo e vedremo come va buone vacanze e tanta gnagna grazie a mattaciclo pescatore bacione ragazzi ci vediamo a settembre con la pesca live ci teneremo in contatto tramite il nostro canale youtube il canale di pesca il canale di punto pesca ci trovate sui nostri relativi siti su telegram e sul gruppo quindi insomma ci saremo sempre per quest'estate facebook che ho ripreso in mano e sto ricestendo quindi sto cercando di rimetterlo un pochino di farlo rivivere e niente ci vediamo a settembre poi magari capace che magari qualche l'aveva sorpresa sì qualcosa si fa bacione tante care cose e come sempre il nostro motto ciao bellini ciao bimbacci buona estate divertitevi e pipate tanto